Musica Benvenuti a una nuova puntata di ASEA Notizie, diamo il benvenuto a Mauro Ghiringhelli, segretario dell'Associazione, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Purtroppo puntata nuova ma discorsi vecchi perché ripartiamo parlando soprattutto del costo del carburante, ancora alle stelle, quindi ci stiamo quasi abituando a pagare il rifornimento di carburante delle nostre automobili, veramente delle cifre esorbitanti. Sì, purtroppo dobbiamo ripeterci perché la situazione in quest'ultimo mese non è cambiata, anzi probabilmente anche leggermente peggiorata. Ha tenuto conto che per il trasporto in questo trimestre non c'è il recupero dell'accise per cui non c'è quel beneficio che trimestralmente veniva concesso in quanto è stato deciso di ridurre per tutti l'accise, di conseguenza in questo momento manca anche questo aiuto al trasporto. L'accise è diminuita però il costo finale praticamente è ritornato nel giro di poche settimane a quello originario, per cui è chiaro che sia per i privati cittadini, sia soprattutto per le imprese che utilizzano il gasolio e il carburante come mezzo principale di trasporto, è chiaro che diventa veramente una situazione difficile da gestire. Certo, infatti ne parlavamo già la volta scorsa, avete chiesto al governo di intervenire per aiutare in particolar modo il settore del trasporto, ma anche da questo punto di vista è tutto fermo, non siete stati minimamente ascoltati. Sì, il provvedimento c'è, adesso è in Unione Europea perché chiaramente sono tutti interventi settoriali che devono essere autorizzati dall'Unione Europea, c'è questo credito d'imposta previsto sul costo del carburante acquistato nel primo trimestre 2022, però ormai è due mesi che stiamo attendendo questo provvedimento, questo codice per poter compensare, ma stiamo ancora aspettando, per cui la situazione sta diventando veramente difficile perché, ripeto, non essendoci raccise, che era una bella valvola di sfogo per il nostro settore, è chiaro che le aziende sono in grossa difficoltà. Certo, e intanto c'è carenza, carenza soprattutto di mezzi, oltre che di trasportatori, e quindi insomma diventa anche molto difficile in questo momento acquistare dei nuovi mezzi per lavorare. Sì, anche qua purtroppo la situazione non è cambiata, ripetiamo le cose dei mesi scorsi, carenza di veicoli, tempi di consegna addirittura non segnalati sui contratti perché non c'è più neanche la possibilità di sapere quando un veicolo può arrivare, veicoli che devono arrivare da mesi e che sono ancora in attesa, mancanza di conducenti, anche qua un'altra nota dolente, per cui l'unica cosa che non manca in questo momento è il lavoro, però diventa difficile farlo perché senza veicoli, senza conducenti, con i costi che chiaramente sono cresciuti in maniera esponenziale, diventa veramente complicato tutto. E anche il mercato dell'usato è ormai una giungla perché i costi anche per acquistare un mezzo usato sono veramente elevati. Il mercato usato è finito, non c'è più perché chiaramente le aziende si sono indirizzate anche su questi tipi di veicoli, sono andati anche all'estero a recuperare veicoli chiaramente con dei costi anche rilevanti dove si avvicinavano quasi al nuovo, ma in questo momento anche andare a cercare un veicolo usato diventa veramente un'impresa, per cui speriamo che queste situazioni migliori, ma le previsioni non sono delle migliori. Certo, voi lo dico sempre, siete anche un po' un punto di riferimento per coloro che operano nel settore, quindi raccogliete anche molta preoccupazione, immagino, insomma, si rivolgono a voi, immagino, trasportatori, comunque soggetti che lavorano nel settore con tanti dubbi e tante perplessità sul futuro. Sì, anche perché ripeto, questo discorso della mancanza dell'accise, della possibilità di avere questo rimborso, è molto importante per i trasportatori e diciamo che le segnalazioni che ci arrivano sono di questo tipo. Fino a un certo punto siamo riusciti a gestire il discorso con questo credito d'imposta che è stato deliberato, per cui è una cosa ufficiale, c'è un provvedimento, adesso però sono passati due mesi dall'emanazione del provvedimento e adesso le aziende sono veramente in difficoltà e stanno aspettando veramente questo provvedimento per cercare di proseguire con un minimo di tranquillità l'attività. Certo, grazie per questa chiacchierata, lo dico sempre, speriamo nelle puntate prossime di dare qualche buona notizia e che le cose insomma si sistemino da ogni punto di vista. Grazie mille intanto. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, grazie a voi da casa. Alla prossima puntata di ESEA Notizie. Arrivederci. Grazie a voi.